Bene, benvenuti a tutti. È un piacere vedere che siete numerosissimi. Vi avverto che ci siamo contagiati tutti noi tre l'ansia, per cui forse parleremo in un modo un po' veloce, un po' affrettato. Intanto io sono la Presidente dell'Istituto per la Storia della Resistenza dell'Italia Contemporanea della Provincia di Rimini e per noi è un grande piacere presentare il libro di Laura Fontana nell'ambito di una rassegna che appunto con la presentazione di questo libro noi riprendiamo insieme alla collaborazione della Biblioteca Gambalunga, poiché questa rassegna era una rassegna ideata negli anni 2000 dalla Biblioteca Gambalunga e organizzata appunto in collaborazione con l'Istituto Storico di Rimini. Pensiamo che sia importante recuperare questa iniziativa che nel proprio titolo si interrogava se la storia possa essere una maestra di vita, magistra vite con un punto interrogativo, incontri con la storia. E perché abbiamo deciso di inaugurare questa rassegna proprio con il libro di Laura Fontana? Laura Fontana la conosciamo tutti a Rimini, la vostra presenza numerosa ce lo dimostra e voda di grande stima proprio per la sua attività ormai pluridicennale direi Laura, nell'ambito dell'educazione della memoria del comune di Rimini. Numerosi sono stati e sono i suoi studi, i suoi contributi al tema, dedicati al tema della Shoah. Oggi, insomma oggi da alcuni anni anche la responsabile italiana del Memorial della Shoah di Parigi. Insomma, quindi un riconoscimento anche a livello europeo. Ma perché abbiamo deciso di iniziare con questa anteprima, considerato che poi i prossimi appuntamenti in realtà avranno luogo nel 2022? Beh, perché riteniamo che quello della Shoah sia uno dei temi per la storia umana davvero radicali, davvero fondamentali che ci portano a doverci confrontare col tema dell'umano e del disumano. Ricordo che una filosofa americana, Susan Neyman, in una storia della filosofia del male, ricordava, sosteneva che l'inizio e la fine della modernità sono segnati dal terremoto di Lisbona della 1755, con il quale l'umanità imparò a distinguere fra il male naturale e il male morale e Auschwitz. E questo rimane uno appunto degli interrogativi, dei temi di fronte ai quali siamo costretti ad interrogarci, soprattutto quando abbiamo scoperto di essere impotenti di fronte al disumano. Il libro di Laura è un libro veramente importante che affronta temi anche inediti, fra l'altro il sottotitolo che ha adottato, Gli italiani ad Auschwitz, 1943-1945, ma il sottotitolo è un sottotitolo veramente che indica un contenuto, deportazioni, soluzione finale e lavoro forzato. Ci dice che Auschwitz non è stato soltanto un luogo di sterminio, è stato qualcosa di molto di più. Il ruolo, la presenza degli italiani è stata una presenza non solo che ha riguardato gli ebrei, ma è stata anche una presenza che ha riguardato gli oppositori politici, le donne e il grande lavoro che Laura fa è quello di recuperare anche fonti inedite, fra queste moltissime testimonianze. Ecco, io devo dire che ci sono alcune parti dei temi affrontati da Laura che trovo veramente molto forti, come ad esempio il tema della connivenza, della complicità degli italiani che non sono stati soltanto salvatori di ebrei, cioè in realtà quello che era stato costruito il mito degli italiani, brava gente, veramente fa parte della memoria pubblica completamente da riscrivere e da sfatare. Ovviamente io non entro nel merito di questo lavoro, di questo libro, sarà Antonio Mazzoni che è stato in passato il direttore dell'Istituto Storico, è stato un insegnante di storia e ripetutamente ha dedicato vari studi sul tema dell'antisemitismo, del razzismo anche nel nostro territorio, il compito appunto di affrontare i temi di questo libro. Mi piace però ricordare una cosa perché ci dice dell'attualità di questi temi, dell'importanza di fare storia, dell'importanza di interrogare ancora il passato e mi riferisco a un'osservazione della stranotta Narent che diventa una citazione obbligatoria, ma ovviamente non farò riferimento alla banalità del male, fra l'altro Laura in varie occasioni ho sentito che ha fatto riflessioni molto interessanti sulle tesi di Anna Arendt, ma la vorrei ricordare e citare per un'osservazione nel suo libro Le origini del totalitarismo, laddove dice che il suddito ideale di un regime totalitario non è rappresentato dall'ottimo nazista, dall'ottimo comunista, bensì da colui che è indifferente nei confronti del tema, nella ricerca della realtà e della finzione, della distinzione fra vero e falso. Ecco, se pensiamo a quello che sta avvenendo nel nostro paese, allora davvero significa che dobbiamo essere molto guardinghi nei confronti di tutte le forme di pericolo per la nostra convivenza democratica. Io l'ultima cosa che vorrei dire del libro di Laura è che ha il grande merito di aver saputo coniugare il cuore con la ragione. Molto spesso gli storici hanno paura di praticare il linguaggio anche dei sentimenti. Io credo che invece sia qualcosa di fondamentale e credo che faccia anche la forza di questo libro. Vorrei ringraziare in modo particolare il sindaco della nostra città che è presente qui con noi e quindi gli lascio immediatamente la parola. Grazie sindaco. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Ci tenevo a essere qui stasera, lo dico sinceramente perché Laura è, penso di poter dire, un'amica, una persona davvero straordinaria che abbiamo l'onore di avere nella nostra città come nostra concittadina che davvero ha fatto tanto per tenere viva sempre la memoria tra di noi. Credo che nel comune di Rimini si sia stato fatto tanto dagli anni 60 ad oggi e se migliaia di nostri concittadini hanno conosciuto l'orrore dei campi di concentramento è perché tanto nel nostro comune, anche ovviamente oltre a Laura, è stato fatto. Io credo, prima si diceva la storia è maestra di vita, non voglio essere pessimista ma io credo poco, credo poco che la storia possa essere maestra di vita. Se ad esempio ieri il ex deputato Fabio Meroni, lo saprete, ha parlato di Liliana Segre senza citarla con nome e cognome ma citando il numero 75190 che è quello che gli è stato impresso nei campi di concentramento ad Auschwitz. Questo è accaduto ieri. La mia figlia è italo-brasiliana, la mia compagna è brasiliana. Oggi il presidente del Brasile è un certo Bolsonaro che è stato eletto dicendo chiaramente, quindi i brasiliani l'hanno votato, dicendo che lui sarebbe incapace di amare un figlio gay, non potrebbe mai accettare una figlia che arriva a casa con un nero, oppure abbiamo Orban in Ungheria. Questo per dirvi che la storia probabilmente non insegna più di tanto, quantomeno non a tutti, e quindi è giusto mantenere sempre alta l'attenzione e l'impegno sull'educazione alla memoria. Questo io davvero da amministratore mi sento di dire che per quanto possibile come Comune di Rimini faremo di tutto per fare in modo che questa educazione alla memoria vada avanti, perché non è assolutamente vero che certi drammi, certi errori sono stati, come dire, digeriti, compresi fino in fondo. E quindi grazie Laura, grazie per questo ennesimo capolavoro. Sì? No, 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 mi è stato, non l'ho ancora letto, lo dico la verità, ma mi metterò a leggerlo, però chi l'ha letto ha già, come dire, apprezzato davvero il contenuto. Quindi grazie Laura e grazie a voi per essere presenti questa sera. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Il libro di Laura io l'ho letto, ovviamente, che devo presentarlo, l'ho letto ripetutamente, l'ho letto quando Laura me ne parlava già diversi anni fa, quando l'ha impostato, è stato un lavoro poderoso, perché era ricercato per tutti gli archivi d'Europa, ha letto migliaia di pagine e poi le ha dovute sintetizzare per produrre il lavoro. Il lavoro ha un titolo, come diceva prima Oriana Maroni, direi lapidario, gli italiani ad Auschwitz e il periodo storico è chiarissimo, 1943-1945. Sono gli anni che vengono definiti da storici di vaglia, tedeschi in particolare, gli anni della vendetta tedesca sul popolo italiano, sul governo italiano, sul pentrato Mussolini, che ha tradito, ha tradito l'impegno che si era assunto nell'asse con la Germania e con il Giappone e pertanto andava punito. La punizione fu molto severa e si mosse in tre direzioni che Laura nel suo libro esplora in maniera molto analitica e convincente. Le direzioni sono quelle, da una parte dicevo i tedeschi, i tedeschi e gli alleati italiani, come sottolineava prima Oriana, cioè la neonata Repubblica di Salò, si affiancò in maniera volenterosa, un aggettivo che conosciamo già a proposito dei volenterosi carnefici di Hitler, in maniera volenterosa affiancò l'opera di pulizia politica, etnica, raziale che i tedeschi fecero in quel bienio in Italia. Nel mirino dei soldati tedeschi, come dicevo prima, e dei loro alleati, ci sono fondamentalmente tre categorie di cittadini italiani. Da una parte ovviamente gli ebrei, gli ebrei sia di nazionalità italiana sia ebrei stranieri che erano stati congelati in Italia dopo l'inizio della guerra. La seconda categoria punita sono gli antifascisti, arrestati e deportati come gli ebrei. La terza categoria sono i lavoratori, tutte le persone ritenute abili al lavoro, giovani, giovanissime, maschi e femmine, che in quel momento servivano come manodopera coatta alla Germania per i campi di sterminio. Questo è un tema abbastanza sorvolato solitamente quando si parla della Shoah. Servivano nei campi, servivano all'industria tedesca che era in affanno perché la gran parte dei giovani tedeschi, giovani e meno giovani, erano occupati sui vari fronti di guerra. Queste sono le tre direzioni fondamentali. Lasciamo da perdere un attimo i soldati, i cosiddetti Imi, che dopo l'8 settembre vennero tutti catturati e mandati in Germania, quelli che non si rifiutarono di lavorare per servire per la Repubblica Sociale italiana. Vennero rastrellati, vennero imprigionati, vennero deportati, non tutti direttamente verso Ausis, mentre infatti leggevo il libro di Laura, ho fatto un richiamo velocissimo mentale alla situazione del Riminese. Delle volte, quando si affrontano temi di storia di un certo impegno, la lontananza temporale e anche spaziale rendono difficoltosa la messa a fuoco. Se li avviciniamo, rovesciamo il binocolo, il cannocchiale, li vediamo molto più vicini e li troviamo anche presenti nel territorio nostro. Riflettevo appunto su questo, preparando questo intervento sul libro di Laura. Riflettevo proprio che qui da noi nel Riminese queste tre categorie e questi tre interventi punitivi si sono mostrati in maniera abbastanza evidente. Vi cito solo rapidamente due o tre casi. Per quello che riguarda gli ebrei, gli ebrei andavano, dopo il novembre del 43, scusate, andavano tutti ricercati, rastrellati, imprigionati e deportati. In Germania ovviamente, passando per Fossoli, uno dei tristemente famosi campi di concentramento italiani, di cui Laura poi parlerà perché diversi dei protagonisti del suo libro sono passati da Fossoli. e gli ebrei italiani, quindi gli ebrei riminesi, hanno dovuto sopportare la stessa umiliante vergogna che hanno subito gli altri ebrei d'Italia. Laura parlerà molto degli ebrei del rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre del 43. Cosa succede agli ebrei riminesi in quel momento? Non erano tantissimi. Gli ebrei locali sono pochi, ma c'erano diversi ebrei di passaggio, quelli che fuggivano dalle armate tedesche che scendevano dal nord per ripugiarsi al sud, dove avanzavano le armate anglo-americane. Non sono tanti, ma vengono individuati, vengono imprigionati, e campi di internamento, campi di concentramento a Rimini non ce n'erano, anche se è una notizia parzialmente vera, c'era un carcere comunque a Rimini in cui venivano ristretti, ma addirittura il prefetto di Forlì, da cui Rimini dipendeva, istituì nell'albergo commercio di Forlì una sezione di un campo di concertamento di transito, un luogo dove collocare gli ebrei prima di mandarli attraverso fossoli in Germania, o in Polonia, o nei vari campi dove erano destinati. E una cosa curiosa, tragicomica, successe alla Villa Labor di Pugliano, che il prefetto di Pesaro, la Valmarecchia dipendeva da Pesaro in quel momento, aveva deciso di funzionarsi come campo di concentramento per gli ebrei in vista di un trasferimento altrove. Il prefetto tentò di edificare un campo di concentramento a Pugliano, alla Villa Labor, e desistette perché mancavano i soldi per acquistare il filo spinato e per recintare la proprietà della Villa Labor. Un tentativo comunque venne fatto. Il terzo luogo dove vennero concentrati gli ebrei riminesi fu la rocca malatestiana che fungeva allora da carcere e in quel momento una bomba intelligente, in questo caso veramente intelligente, si abbatté sul carcere di Rimini e divelse la porta, il portone d'ingresso, e quei dieci ebrei che erano dentro, che sarebbero sicuramente finiti ad Auschwitz o in campi limitrofi, si salvano. E con loro altri politici che erano internati, che erano rinchiusi dentro il campo. L'altra categoria, diciamo dei giovani abili al lavoro, rastrellati, l'abbiamo sempre in Valmarecchia, oltre che nelle zone del costiere del nostro territorio. In Valmarecchia circa un centinaio di ragazzi vennero rastrellati dai tedeschi riavviati ai campi di lavoro in Germania, ai campi di concentramento, passando anche loro da Fossoli e approdando in buona parte a Mauthausen e non ad Auschwitz. Infatti Laura non li ha incontrati da nessuna parte, mi pare. Quelli dalla Valmarecchia, esatto. Però anche loro subirono lo stesso tipo di punizione di cui parlavo prima. La terza categoria di perseguitati dai tedeschi in questi due anni terrificanti furono gli antifascisti, i giovani che si erano rifiutati di indossare alla divisa militare di Salò, che erano fuggiti nelle montagne, che si erano aggregati alle bande partigiane e nel nostro territorio, purtroppo due di loro, Fossoli e Ritorno sempre, finirono a Fossoli. Walter Gelfi e Rino Molari, da Fossoli non uscirono perché li fucilarono nel 1944. Quindi la piccola storia, Laura, si intreccia con la grande storia di cui tu hai fatto l'affresco nel tuo libro. A questo punto vorrei che entrassimo proprio in questa dimensione più larga di cui ho fatto cenno prima. Questi sono i filoni, in grosso modo i filoni che hai individuato tu e sui quali io sono d'accordo e per i quali ho portato questi piccoli esempi locali per vedere, per capire cosa sta succedendo in Italia, nei rapporti fra noi e la Germania in questo momento e soprattutto mi interessa capire quando e come tu hai deciso di mettere a fuoco come studiosa questo aspetto della politica che non è solo razziale ma è larga di controllo e di soppressione di chi non era d'accordo con il fascismo e con il nazismo. Allora, buonasera. Innanzitutto grazie, grazie Oriana, grazie al sindaco e grazie a te Antonio. E' con grande emozione che io oggi presento il libro qui alla mia città e voglio ringraziare la mia città Rimini da cui tutto è iniziato ormai 30 anni fa. Forse non sarei stata capace di scrivere questo libro quando ho incominciato. Ho avuto bisogno veramente di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme col Comune di Rimini, con l'Istituto Storico, con i nostri meravigliosi ragazzi. Lo dico perché, chi mi conosce lo sa, è stato molto faticoso scrivere questo libro anche emotivamente. Vorrei raccontarvi brevemente perché l'ho scritto e come è iniziato tutto. Sapete, perché siete qui, che mi occupo ormai da sempre di Shoah, di Auschwitz, ci sono state tantissime volte e l'ultima volta che ho accompagnato un gruppo di Rimini, ormai forse erano 5-6 anni fa, perché poi siamo andati in altri campi di concentramento, ho deciso di fare una sorta di esperimento, cioè di rimanere da sola, alla fine del viaggio con i ragazzi che sono tornati a Rimini con i miei colleghi, sono rimasta per tre giorni da sola, tutti i giorni, entravo nell'ex campo di concentramento e centro di Serminio con l'intento di ascoltare quello che dicevano i visitatori italiani, non tanto le scuole che arrivano accompagnate, preparate, eccetera, ma proprio i visitatori individuali, perché avevo già in mente di scrivere un libro. E mi sono accorta, ascoltando appunto per tre giorni le guide che spiegavano, e appunto gli italiani, ricordo che l'Italia è al terzo posto nella classifica mondiale per numero di visitatori di Auschwitz, non adesso che c'è il Covid, ma insomma, quindi i numeri sono molto consistenti. Quindi il mio primo obiettivo era quello di scrivere un racconto collettivo, appunto, degli ebrei e delle ebrei che sono stati deportati e massima parte uccisi ad Auschwitz, proprio perché questi nostri connazionali che visitano questo luogo così importante non trovavano poi strumenti anche divulgativi. Le persone conoscono Primo Levi, Liliana Segre, ma insomma la storia poi non è così ben conosciuta. E mentre iniziavo appunto a lavorare questo libro scopro di una, una allora, anni fa, una italiana, non ebrea, Vittoria Nenni, figlia di Pietro Nenni, che è stata deportata ad Auschwitz, dalla Francia, dove viveva, come prigioniera politica. da lì in poi è stata tutta una scoperta, cioè sono arrivata, parallelamente anche Aned sta conducendo una ricerca di questo tipo, ma non è ancora pubblica, sono arrivata a capire che gli italiani non ebrei, prevalentemente al 90% donne, che sono stati deportati dall'Italia penisola ad Auschwitz, sono stati almeno 1200. considerate che gli ebrei deportati dall'Italia penisola, non tutti di cittadinanza italiana, sono stati 7.817, quindi il numero è preciso perché è stato contato dai ricercatori del centro di documentazione ebraica contemporanea. Non è preciso perché sono state identificate per ora 7.817 persone, però se facciamo le proporzioni anche 1.200 non ebrei, italiani, di cui non si è mai parlato, insomma mi sono chiesta la ragione quale potesse essere. Quindi da lì il libro è diventato un'altra cosa, non è più rimasto diciamo nei confini di un racconto divulgativo, ma è diventata una ricerca, una ricerca anche ossessiva, ostinata, cioè ogni nome che trovavo mi chiedevo come mai insomma di questa persona se ne fossero perse le tracce. Quindi sostanzialmente ho cercato di fare tre cose, perché poi il libro, l'avete visto, è un bel librone. Innanzitutto, forse per la prima volta, inserire nel racconto della storia e della memoria dell'Italia ad Auschwitz anche i non ebrei. Quindi ricostruire i contesti, la Shoah da un lato e la deportazione politica, senza mai amalgamarle, sono due politiche di natura completamente diversa, però tenendole insieme, non tenendole più separate. quindi la prima parte è proprio ricostruire perché queste persone sono state arrestate e perché sono finite ad Auschwitz. Perché se per gli ebrei italiani la risposta ce l'abbiamo, e non sono certo io la prima a dirlo, perché dovevano essere assassinati tutti, perché la Germania nazista aveva questo progetto di genocidio e l'Italia non era un'eccezione, è arrivata solo più tardi, cronologicamente, appunto, dall'autunno 43, ed è importante sapere che più del 90% degli ebrei deportati dall'Italia vanno ad Auschwitz per essere uccisi, non vengono mandati in campi di lavoro. Invece, per i 1200 almeno non ebrei di cui mille erano donne, non abbiamo una ragione, o perlomeno io non l'ho trovata, nonostante appunto questa ricerca, non c'è una ragione precisa per la quale siano state deportate proprio ad Auschwitz. Noi li chiamiamo deportati politici, ci sono queste due macro-categorie che tu Antonio hai già introdotto, quindi la Shoah, detta anche deportazione raziale, però è un termine che non mi piace molto, anche se è un termine storico, e la deportazione politica, i triangoli rossi, quindi le persone arrestate e catturate dai nazisti, ma in accordo spesso su dell'azione dei fascisti, perché erano appunto oppositori, coinvolti nella resistenza, disertori, scioperanti, eccetera. ma questa categoria di deportati politici, quando poi tu vai a vedere le storie delle persone, perché io ho cercato di fare questo, e forse per questo che ci ho messo così tanto anche a scrivere il libro, cioè mi sono sempre sforzata di tenere insieme la storia con la microstoria, la storia delle persone, io le chiamo per nome e per cognome queste donne, questi bambini, queste famiglie, perché delle ragazze di 16 anni di Gorizia, di Trieste sono finite ad Auschwitz, Auschwitz non era un campo di prigionia per le politiche donne arrestate nei paesi europei, era Ravensbrück, infatti anche dall'Italia, da giugno 1944, 900.000 donne vengono deportate a Ravensbrück, era il grande campo di concentramento femminile, quindi perché queste mille, principalmente partite da Trieste e da Gorizia, ma anche dalla stazione di Bergamo vanno ad Auschwitz, le due ragioni diciamo più semplici potrebbero essere perché in linea diretta, la linea ferroviaria da Trieste era più logisticamente più facile diciamo deviare, arrivare ad Auschwitz piuttosto che a Ravensbrück che invece era situato a 80 chilometri a nord di Berlino, in realtà ancora una volta quando vai a indagare le storie questa ragione non tiene perché è una ragione abbastanza semplicistica oppure potremmo dire perché sono state arrestate rastrellate per il lavoro forzato e questo sicuramente è una ragione importante di cui io ho tenuto conto perché tutto il libro fin dal sottotitolo come ha ricordato Oriana vuole sforzarsi di tenere su Auschwitz uno sguardo plurale e polivalente. Noi oggi consideriamo Auschwitz un simbolo infatti Auschwitz non si studia se voi cercate una bibliografia in rete trovate tantissime testimonianze ma trovate pochissime opere di ricerca su Auschwitz perché quando un simbolo poi diventa universale conosciuto diventa anche un po' ingombrante non si studia quindi Auschwitz è stato uno dei centri di sterminio più importanti per assassinare gli ebrei d'Europa dal 43 non nei tre anni precedenti e questo è inconfutabile non deve più essere discusso perché la documentazione è assolutamente abbondante in tutte le lingue ma non è stato solo questo ecco io ho cercato di dire anche questa cosa è stato parallelamente e fino alla fine fino a gennaio 45 quando le SS abbandonano il campo perché l'armata rossa sta arrivando è stato fino alla fine un gigantesco complesso concentrazionario di industrie dove non solo le SS e anche questo c'è nel libro ma i civili io parlo anche dei civili i civili tedeschi decine di migliaia di civili tedeschi che vanno ad abitare Auschwitz città Auschwitz zona di interesse perché lì ci vogliono vivere perché lì vogliono disegnare un pezzo dell'impero dei mille anni io ho trovato dei documenti dove i dirigenti della IG Farben questa grandissima industria chimica tedesca che aveva fondato una filiale proprio nel complesso di Auschwitz i dirigenti l'ultima riunione documentata c'è il verbale il 13 gennaio 1945 i soldati sovietici sono pochi pochi chilometri da lì la guerra è finita prendono l'ultimo treno e scappano quindi questo significa che fino alla fine quel luogo aveva un interesse anche economico in cui sono finiti anche questi 1200 italiani poi è chiaro bisogna non bisogna mai avere fretta quando si studia la storia non bisogna mai cercare la versione più sintetica nel senso che gli aspetti economici che per le SS Auschwitz ha avuto ripeto fino alla fine non sono mai stati prevalenti rispetto alla necessità di sterminio degli ebrei quindi una logica non fa pari con l'altra però tutte e due vanno tenute insieme e io dicevo appunto ho cercato di tenere insieme questi due contesti dei due diciamo percorsi di deportazione per poi cercare anche e questa è la seconda parte del libro se nell'esperienza di quegli italiani e di quelle italiane che di Auschwitz hanno vissuto l'internamento ci potessero essere degli elementi in comune e qui già capiamo la differenza con la Shoah perché se il 90% degli ebrei sono stati mandati ad Auschwitz per essere uccisi in particolare praticamente la maggioranza dei bambini delle donne delle persone superi 45 anni già capiamo che quella minoranza gli italiani ricordo arrivano gli ebrei italiani arrivano ad Auschwitz dall'ottobre 43 fino agli ultimi trasporti sono di novembre 44 quindi quella piccola minoranza che è stata salvata all'arrivo dalla morte immediata col processo detto di selezione che divideva quelli che potevano lavorare da quelli che dovevano essere uccisi subito per gli ebrei ha riguardato una piccolissima percentuale e di questa piccolissima percentuale si possono analizzare solamente le testimonianze di quelli che hanno di quelli che ovviamente sono sopravvissuti e che hanno voluto testimoniare quindi vedete già la storia restringe il suo sguardo su un pezzo di vite invece per le donne per i deportati italiani non ebrei che avevano il triangolo rosso quindi quelli che sinteticamente si chiamano politici non erano destinati allo sterminio non erano destinati all'uccisione immediata non subivano la selezione sono stati tatuati col numero di matricola hanno subito lo stesso processo di spersonalizzazione di crudeltà ma hanno avuto delle possibilità diverse pur nello stesso inferno tant'è che la maggioranza sopravvive quindi che cosa hanno in comune mi sono chiesta beh in comune ci sono quello che Primo Levi sinteticamente definisce la demolizione dell'umano quindi tutti gli aspetti del lager che i sopravvissuti ci hanno raccontato quindi il supplizio della fame la violenza sul corpo eccetera e ho cercato poi il terzo obiettivo di fare ancora un'altra cosa di capire se questi elementi comuni che un po' tutti i sopravvissuti dei campi di concentramento hanno raccontato e Auschwitz è stato un grande campo di concentramento non solo un centro di sterminio ho cercato di capire se questi elementi comuni fossero diciamo simili per tutti i lager per tutti i campi di concentramento specifici di Auschwitz e io ho capito che alcuni erano specifici di Auschwitz perché ad esempio ho cercato di raccontare storie di gruppo o storie di condizioni particolari nel lager per esempio ho ricostruito le storie dei medici delle donne degli uomini ebrei non ebrei che erano medici nella loro vita e che hanno potuto esercitare in condizioni terrificanti e inenarrabili la condizione di medico nel lager e anche qui un'eccezione nell'eccezione perché non è che quando si arrivava da Auschwitz e si aveva la fortuna termine che usano tutti i sopravvissuti di essere selezionati per il lavoro quindi di non morire subito non è che le SS ti chiedessero chiedessero a tutti ci sono medici o che lavoro facevi primo Levi faceva il chimico lo sappiamo e quindi viene selezionato come chimico ma non è vero che si è salvato facendo il chimico poi il libro correggia anche molti luoghi comuni lui non ha fatto mai il chimico ad Auschwitz entra nel laboratorio di chimica nelle ultime settimane e fa praticamente il manovale anche dentro il laboratorio di chimica quindi insomma anche un po' il nostro immaginario va un po' rimesso a posto ma Primo Levi arriva con la sua grande amica Vanda Maestro che è chimica anche lei e a lei nessuno chiede scusi lei fa il chimico Vanda Maestro finisce a lavorare nei campi all'aperto nell'inverno polacco e quindi muore di stenti Luciana Nissim la terza amica di Primo Levi che arriva con Primo Levi ha la fortuna o la provvidenza poi ogni sopravvissuto la chiama come vuole non solo di sentirsi chiedere scusi per caso lei fa il medico ma lei di anticipare la richiesta al momento in cui le fanno il tatuaggio e di dire in tedesco io sono un medico e quindi in quel momento di essere messa nel gruppo piccolissimo dei medici prigionieri poi ad esempio racconto la storia dei bambini perché 25 bambini ebrei si sono salvati su 776 che vengono deportati perché loro 25 chiaramente non è che io ho una risposta diciamo univoca o formulo delle ipotesi perché questi 25 bambini quando arrivano in che trasporti in che anno che cosa fa sì che li aiuti a sopravvivere chi sono come si chiamavano anche qui nome e cognome perché la lista dei nomi delle vittime della Shoah c'è già consegnata la storia per sempre il CEDEC però ecco io ho voluto anche raccontare queste storie le storie delle madri le donne deportate che arrivavano incinte e anche qui una differenza fondamentale se erano ebrei o non ebrei se potevano o non potevano sopravvivere e nascondere la loro gravidanza e poi rilascio la parola Antonio il libro diciamo perché anche scegliere un titolo non è così semplice in realtà gli italiani ad Auschwitz gli italiani ad Auschwitz c'è tutto poi dietro queste parole perché appunto i deportati quelli che ad Auschwitz subiscono l'internamento ho dimenticato di dire che se sono stati almeno 1200 non ebrei che finiscono ad Auschwitz le mille donne almeno ma la ricerca continua sono molte di più sono state deportate direttamente dall'Italia mentre i più di 200 230 forse 250 la ricerca è in corso uomini non ebrei non arrivano ad Auschwitz dall'Italia sono deportati dall'Italia in altri campi di concentramento Dachau Mauthaus e Buchenwald e successivamente vengono spostati ad Auschwitz perché fanno parte di gruppi particolari che ad Auschwitz servono sono medici pensate che ci sono alcuni medici non mi cognome nei libri che vengono trasferiti ad Auschwitz il 3 gennaio 1945 l'assassinio degli ebrei ad Auschwitz finisce per ordine di Himmler più o meno a fine ottobre 1944 quindi secondo la logica dello sterminio Auschwitz ha finito la sua funzione anche se gli ebrei continuano a morire per mille altre ragioni allora perché il 3 gennaio quando praticamente l'evacuazione è già in corso arrivano questi deportati non solo italiani ovviamente io mi sono concentrata sugli italiani per la ragione per il fatto stesso che Auschwitz aveva anche altri scopi e quindi continuava a essere utile quindi un gruppo di medici un gruppo di lavoratori specializzati cioè un gruppo di 165 secondo me forse qualcuno in più secondo altri ricercatori lavoratori specializzati italiani lavoratori specializzati perché c'è una lista di trasporto che le SS chiamano trasferimento di lavoratori specializzati cioè le liste di trasporto dei prigionieri da un campo all'altro venivano registrate in vari modi per ordine alfabetico per numero di matricola raramente per professione quasi sempre per i medici che avevano i prigionieri medici facevano parte di trasporti speciali perché erano molto ricercati molto utili perché in particolare ad Auschwitz c'erano continuamente epidemie di tifo e in questo caso in altri casi lavoratori specializzati che partono da Mauthausen in un trasporto di 1120 prigionieri di varie nazionalità tutti non ebrei gli italiani sono 165 segnati come italiani che appunto da Mauthausen il 2 dicembre vanno ad Auschwitz 2 dicembre 44 beh io mi sono molto sorpresa in questa lista che è divisa per professione quindi voi trovate muratori e c'è l'elenco nome e cognome francese italiano con le varie nazionalità beh ci sono per esempio se non ricordo male sette cuochi italiani cioè cosa voglio dire tutte le professioni servivano ad Auschwitz Auschwitz era una città gigantesca industriale era un campo di concentramento costituito da 40 45 47 i numeri sono in continua definizione perché si trovano continuamente nuove fonti quindi servivano milioni di schiavi per far lavorare un luogo come Auschwitz servivano anche dei cuochi servivano anche dei verniciatori di auto c'è scritto servivano dei geometri servivano degli ingegneri servivano tutte le professioni è il terzo gruppo di uomini non ebrei che arriva ad Auschwitz è un gruppo di prigionieri di Maidanek che sono completamente sfiniti dalla malattia dal lavoro e quindi devono morire Maidanek deve essere evacuato nell'estate 44 ma probabilmente questa è un'ipotesi siccome non sono ebrei quindi non vengono assassinati sul posto col gas vengono mandati ad Auschwitz a morire e infatti muoiono praticamente tutti nel giro di pochi mesi e gli ultimi italiani ad Auschwitz di cui parlo nel libro senza approfondirlo perché sarebbe un altro libro e magari lo lascio fare lo lascio scrivere a qualche collega perché è una ricerca infinita sono stati i civili italiani quindi non prigionieri non deportati i civili italiani che sono andati a lavorare o perché le loro ditte li hanno trasferiti e questo avviene pensate dal marzo 1942 18 mesi prima dell'occupazione marzo 1942 ho trovato il contratto e nel libro c'è un contratto di affitto che 40 industrie fasciste italiane sottoscrivono con la IG Farben di Auschwitz per mandare migliaia di muratori ancora una volta geometri operai specializzati nei cantieri di Auschwitz marzo 1942 forse vi stupirà perché io ho dormito la notte ma io ho trovato veramente i libretti di lavoro perché poi la differenza tra un prigioniero e un civile la fa il fatto che il prigioniero ovviamente è trattato come schiavo non ha nessun diritto quindi figuriamoci se poteva avere il libretto di lavoro i civili avevano un contratto di assunzione quindi negli archivi tedeschi si trovano proprio i libretti di lavoro e i contratti quindi il numero di ferie il ruolo eccetera beh ci sono delle ragazze di 18 anni che dal Veneto dal nord Italia nell'agosto 1944 se uno ha in mente la cronologia della guerra 44 ragazze che appunto vanno volontariamente ad Auschwitz ma ancora una volta Auschwitz complesso industriale non campo di concentramento soltanto vanno a cercare lavoro spinte dalla fame spinte dalla miseria e vengono assunte c'è proprio scritto come lavandaia aiutante mansioni varie quindi vedete un mosaico di vittime ho scritto perché poi anche sui civili ci sarebbero insomma da dire molte cose ma non voglio monopolizzare io la conversazione cioè la storia dell'Italia ad Auschwitz è una storia che va riscritta credo va riscritta integrando quello che già c'è che è il lavoro di cui avevamo fortemente bisogno che è quello che riguarda la Shoah con le responsabilità italiane io ho cercato di capire dove siano stati arrestati questi ebrei in quale condizioni perché non c'è stata pietà la Shoah è un genocidio senza pietà tutti devono morire quindi vanno a cercare anche i pazienti dell'ospedale psichiatrico delle isolette della Laguna Veneta li trascinano giù dal letto e li buttano su un camion li portano alla risiera di San Sabba poi li assassinano ad Auschwitz donne incinte Marcella Perugia che partorisce nel collegio militare di Roma viene arrestata nella retata del 16 ottobre 43 alle doglie partorisce in prigione nel collegio militare davanti a tutti stendono proprio un lenzuolo per pietà per non farla vedere davanti alle altre mille persone arrestate e il giorno dopo la caricano ancora sofferente con questo neonato su un treno bestiame che il 18 ottobre parte per Auschwitz dove arriva cinque giorni dopo la mamma con i suoi bambini più grandi e questo neonato vengono uccisi subito nelle camere gas e la cosa terrificante è che nelle liste il bimbo è chiamato neonato di Veroli non sappiamo neanche forse la mamma non ha avuto neanche tempo di dargli un nome quindi questo già ci fa capire anche proprio la specificità della Shoah rispetto agli altri crimini ma non per questo gli altri crimini non devono essere ricordati insomma anche nella complessità della storia terribile mentre parlavi dell'organizzazione di Auschwitz poi l'altro giorno mi hai detto un particolare che io ignoravo a Birkenau hai trovato l'edificio riservato ai dirigenti del campo strutturato veramente come un centro di accoglienza e un centro benessere con le sale di divertimento con le sale del teatro il cinema in cui gli agostini passavano il loro tempo libero dopo aver tormentato e ucciso migliaia mentre parlavi adesso e restiamo un attimo sul tema del lavoro mi venivano davanti agli occhi le terribili immagini di un film molto vecchio di Fris Lang Metropolis mi pare sia del 1927 28 insomma comunque prima del secolo prima del nazismo imperante e questo fantasioso artista tedesco di origine o austriaco comunque della Mitteleuropa di aree germanica aveva prefigurato un mondo in cui un mondo diviso in due i padroni nei piani alti nobili e gli schiavi nei sotterrani e Auschwitz in parte me lo ricorda me lo ricorda perché nella concezione folle dei dirigenti nazisti probabilmente pensavano ad un'umanità una volta che il terzo Reich millenario si fosse imposto un'umanità suddivisa in maniera tragica e comunque dualista fra un'elite gli ariani biondi di Hitler e un'enorme massa di schiavi fra cui gli slavi gli ebrei non erano compresi perché si pensava di sfinirli e di ucciderli tutti è veramente Auschwitz è stato anche questo bisogna che pensiamo come delle volte gli artisti riescono a prefigurare e immaginare realtà che sembrano assurde allucinanti fantascientifiche ma nei fatti qualcuno tenta di realizzarle ma tornando un attimo al lavoro mi veniva in mente un'altra riflessione Laura cioè da una parte questa classe dirigente folle senza virgolette che aveva portato la Germania a distruggere mezza Europa a soggettarla a sterminarla ha bisogno del lavoro soprattutto negli ultimi anni negli ultimi anni vediamo che non solo la LG Farben ma la Daimler la Volkswagen la Siemens hanno bisogno folle di mano d'opera per per le loro catenelle di montaggio la campagna stessa i contadini tedeschi chiedono mano d'opera perché i loro figli sono tutti in guerra se questo è vero cioè se c'era un bisogno così assillante di mano d'opera perché non solo gli ebrei ma sfinivano anche gli italiani non ebrei o comunque i cittadini non ebrei che capitavano in questi campi di contenimento di concentramento o di sterminio se avevano bisogno veramente dalla mano d'opera gratuita soprattutto i dirigenti delle fabbriche erano attirati moltissimo dal costo basso dalla mano d'opera quasi ridicolo e perché però in contemporanea i loro aguzzini quelli che gestivano quotidianamente li portavano allo sfinimento e addirittura a lavori ripetitivi assurdi stupidi di cui la gente si accorgeva benissimo che era un lavoro che non aveva senso ricordo una delle tue signore o donne non ricordo più che diceva ma mi facevano farne il buco poi dovevo riempirlo e passavo la giornata a fare buchi e riempirli una roba ecco allora c'è una logica in questo o siamo nel campo della pura follia ho bisogno di mano d'opera ma poi la sfinisco e la sottoutilizzo allora nel mio lavoro mi sono scontrata con domande aperte quindi il libro non risponde a tutte le domande che io sollevo una di queste è appunto quella che tu citi del lavoro forzato sempre riferito ad Auschwitz allora innanzitutto nel 1942 Himmler che è l'architetto della Shoah e dei campi di concentramento quindi colui che veramente ha il potere in mano decide nel 1942 di sfruttare maggiormente i prigionieri dei campi di concentramento e di creare un legame più stretto con l'organizzazione centrale che gestiva l'amministrazione e l'economia dell'SS cioè per lucrare direttamente sul lavoro dei prigionieri dei campi di concentramento che ricordo venivano affittati tu l'hai accennato velocemente cioè i prigionieri di Auschwitz come quelli degli altri campi venivano affittati dall'SS alle imprese tedesche che avevano installato le loro figliali affinché lavorassero appunto come schiavi ricordo la Bayer che ha sperimentato i suoi farmaci su migliaia di donne principalmente ebree quindi c'è stata una connivenza complicità assolutamente totale per sfruttare in maniera inumana il lavoro dei prigionieri dei campi il lavoro forzato non è stato però solo quello dei prigionieri dei campi qui dopo si apre veramente un altro campo il lavoro forzato è stato il crimine più importante perpetrato dalla Germania nazista per numero di vittime sono stati almeno pensate 14 milioni gli europei costretti al lavoro forzato per i Reich che lavorano solo in piccola parte nei campi di concentramento però torniamo ad Auschwitz allora intanto io ho iniziato tu lo sai perché è il primo capitolo che hai letto il primo capitolo che io ho scritto non ho scritto il libro in ordine cronologico perché sono un po' strana quindi l'ho rimesso in ordine cronologico poi dopo per la pubblicazione il primo capitolo quello che mi ha occupato quasi un anno della mia vita è stato quello sulle operaie 40 operaie forse ancora una volta di più io dico 40 perché di 40 ho i nomi i cognomi 40 operaie giovanissime dai 16 ai 30 anni prevalentemente qualcuna neanche 40 che vengono arrestate nelle fabbriche della Lombardia quindi la Bassetti la Caproni la Breda dopo che hanno scioperato nel marzo 1944 gli scioperi della prima settimana di marzo 1944 sono stati la più grande manifestazione detta dalla stampa dell'epoca antinazista organizzata dalla società civile perché centinaia di migliaia furono gli operai e le operaie che aderirono gli scioperi quindi uomini e donne complessivamente 1200 vengono deportati principalmente a Mauthausen e Dachau e ne sono uomini quindi ancora una volta perché queste 40 operaie che sono state molte di più quelle che hanno scioperato perché loro vengono deportate solo loro e perché ad Auschwitz vabbè adesso qui bisogna avere la pazienza di leggere il libro ma torniamo al lavoro forzato uno dice no queste lavoravano alcune di loro Loredana Bulgarelli che ha avuto l'ambrogino d'oro credo l'anno scorso due anni fa a Milano Loredana Bulgarelli che era una delle più giovani aveva 17 anni compie 18 anni in deportazione per esempio lavorava alla Caproni ed era un'operaia specializzata costruiva componenti per gli aerei militari queste 40 operaie ripeto sono giovanissime sono abituate alla fatica sono persone umili che lavorano fin da piccole per mantenere la famiglia quindi sono forti non sono ebree vengono mandate ad Auschwitz per essere sfruttate come lavoratrici forzate intanto queste 40 operaie non si capisce perché passano da Mauthausen quindi vengono arrestate nella loro casa portate nel carcere di Como di Magenta dove abitano poi vengono trasferite tutte nella caserma degli Alpini di Bergamo insieme agli uomini e vengono mandate e vengono deportate ad Auschwitz via Mauthausen cioè ci mettono praticamente un mese per arrivare ad Auschwitz sostando inspiegabilmente una settimana a Mauthausen poi un'altra settimana in una prigione di Vienna e poi arrivano ad Auschwitz neanche tutte insieme pur essendo poche secondo i criteri dei nazisti che dovevano sempre riempire i treni arrivano ad Auschwitz con tre trasporti diversi insieme ad altre donne di varie nazionalità ebbene confrontando le testimonianze di queste donne non tutte testimoniano purtroppo con quelle delle donne ebree che sono state risparmiate dall'uccisione che hanno lavorato la stessa Liliana Segre che era una ragazzina lei lavora nella fabbrica di munizioni però la maggior parte delle donne che hanno testimoniato potremmo fare lo stesso confronto con gli uomini ma mi voglio concentrare sulle donne stranamente dicono una cosa diversa che non torna cioè queste perché parlo delle operaie perché loro arrivano tutte dal 29 marzo 1944 al 2 maggio 1944 ad Auschwitz Birkenau quindi centro di sterminio ma loro sono nel campo di concentramento e ci rimangono almeno sei mesi prima di essere trasferiti in altri campi non è un periodo breve per un luogo così infernale non lavorano nelle industrie nonostante quello che ho detto prima Auschwitz era un gigantesco complesso di industrie ed era anche un centro di smistamento verso altri campi vengono impiegate principalmente loro accanto alle connazionali ebree per fare lavori che loro giudicano inutili è una tortura appunto svuotano un pezzo di terreno dalla ghiaia e poi quella ghiaia la mettono due metri più in là devono tirare dei carretti come degli animali quando sarebbe razionale usare delle macchine per esempio a Auschwitz non ci sono le macchine di livellamento del terreno di scavo del terreno stranamente mancano quindi c'è una sproporzione totale tra le ambizioni gigantesche delle SS e il fatto che proprio ad Auschwitz ci sia una carenza strutturale e organizzativa rispetto ad altri campi come Flossenburg Dachau che sono molto più organizzati per il lavoro nelle fabbriche belliche Auschwitz è un grandissimo caos nel 1944 quando arrivano gli italiani quindi come mai ci sia stata questa irrazionalità potremmo dire anche se ovviamente noi oggi guardiamo la storia dalla prospettiva contemporanea cioè come mai delle braccia giovani delle donne anche specializzate nelle fabbriche vengono messe per esempio loro dicono seminavamo cavoli spaccavamo il ghiaccio con le mani tagliavamo gli alberi con dei coltellini che ci tagliavamo quindi neanche con un senso appunto razionale cioè non fanno lavori produttivi compiono lavori che loro e qui c'è un convergere delle testimonianze tra donne ebree e donne non ebree italiane lavori che percepiscono come inutili e come una tortura cioè per farle morire di stenti di botte di fatica in realtà la prospettiva delle vittime quindi le testimonianze orali che quando si fa storia sono fondamentali vanno confrontate con gli altri tipi di fonti quindi con le fonti di matrice nazista quindi appunto di coloro che Auschwitz l'avevano pensata come luogo per viverci e per lucrare in realtà per il motivo a cui accennavo prima ad Auschwitz serviva tutto serviva anche svuotare le latrine a Auschwitz non ci sono fogne ad esempio il grosso problema delle epidemie di tifo che in particolare dilagano a Birkenau che è il più grande campo di concentramento nazista il più grande campo di concentramento nazista non è solamente un centro di sterminio centomila prigionieri sono stati internati lì dentro quindi un luogo veramente di proporzioni enormi ebbene non ci sono fogne quindi il terreno è paludoso quindi costringono i prigionieri e le prigioniere a svuotare le latrine praticamente con le mani a fare dei lavori in condizioni che per forza che poi si ammalano e muoiono quindi contraddicendo quella logica produttiva ma qui se rileggiamo Primo Levi che appunto era un chimico e per la maggioranza per il 90% del suo periodo di internamento ad Auschwitz Monowitz ricordo che arriva a febbraio quindi ci sta praticamente quasi un anno Primo Levi fa lavori di fatica quindi nonostante sia chimico e parlicchi un po' il tedesco perché lo comprenda lo parli ed è giovane non viene assolutamente impiegato per la sua professione la maggioranza dei prigionieri che sono medici non fanno i medici nel campo ma fanno lavori di fatica quindi no non mi piace il termine follia credo che la risposta stia nel confrontare questa questa sproporzione tra l'ambizione appunto delle SS di fare di Auschwitz veramente un luogo fondamentale ad Auschwitz allevavano conigli d'angora no? cioè giusto allevavano trotte pesci di qualità particolari c'erano delle serre di piante rarissime quindi c'era veramente tutto la Igefarben la fabbrica dove appunto poi lavorò anche Primo Levi che assorbiva 10.000 prigionieri migliaia di civili e doveva teoricamente produrre benzina sintetica non produsse mai gomma sintetica cioè rimase sempre in un perenne stato di espansione quindi Auschwitz continua ad espandersi fino all'evacuazione fino a quando sarebbe logico scappare via oggi penseremo con l'armata rossa lì vicino cosa stavano a fare ancora lì che avevano questo teatro a cui accennava Antonio avevano costruito anche questo mega teatro delle SS che continuò a funzionare fino alla fine quindi facciamo fatica a tenere insieme i pezzi io credo che qui le testimonianze delle donne che ci dicono facevamo lavori assolutamente inutili in realtà quell'inutilità che la vittima ha percepito come crudeltà dal punto di vista delle SS anche incapaci diciamolo studiando i documenti incapaci di governare un luogo smisurato per l'ambizione appunto che avevano riposto avevano bisogno anche di queste veramente manovalanza di qualunque tipo quindi la logica era quella di assolvere tutti i compiti che potessero garantire il funzionamento di Auschwitz ho dimenticato di dire una cosa fondamentale perdonemi Antonio lo voglio dire la maggioranza delle donne italiane deportate ad Auschwitz forse due terzi dico forse perché quando non sono sicura sono prudente però sicuramente una buona maggioranza erano di origine o di lingua slovene croata perché vengono catturate in quei territori in quelle regioni che in parte dopo la prima guerra mondiale oppure nel caso di Ljubljana dal 1941 eccetera eccetera quindi da territori che poi diventano italiani e quindi erano considerate italiane e registrate come italiane ma loro si percepivano come slovene come croate la maggioranza di loro avevano subito tra le tante discriminazioni che le minoranze e questo è stato un po' dimenticato che le minoranze slovene e croate subiscono pesantemente sotto il fascismo avevano subito per esempio l'obbligo di cambiare il cognome di famiglia e qui una difficoltà enorme della ricerca è quando si trova il doppio cognome Vojdo Pivic in sloveno e bevi l'acqua in italiano quindi magari trovi due volte il cognome devi capire che è la stessa persona che è stata obbligata a cambiare il cognome ma che dopo la guerra ha recuperato il suo cognome originale e quindi perché lo voglio sottolineare perché queste persone principalmente donne di origine slovene e croata sono state dimenticate dalla memorialistica italiana ingiustamente dimenticate perché qui si entra in tutta quella questione della differenza tra cittadinanza e nazionalità identità che è fatta di lingua è fatta di cultura è fatta di educazione e diciamo le registrazioni amministrative che avvenivano quando le persone venivano catturate quindi il fatto di essere proprio registrate nei trasporti di deportazione come italiane credo che sia una grossissima questione perché poi erano donne che parlavano italiano e sloveno a casa o italiano e croato e insomma ecco molte questioni che cerco di affrontare nel libro grazie ti volevo proprio proporre questo ulteriore capitolo perché mi aveva colpito molto però hai già detto hai già risposto abbondantemente non dimentichiamo Laura che quei territori il cosiddetto confino orientale o il litorale adriatico come lo chiameranno poi i tedeschi è un territorio difficile è un territorio che ha subito travagli infiniti a passaggi di proprietà scusa fra virgolette dall'impero austro-ungarico poi all'Italia fascista poi alla Jugoslavia comunista e io francamente penso che sia difficile vivere in quei territori probabilmente capiamo me alla luce di quello che tu hai scritto anche riusciamo a inquadrare meglio problemi che nascono subito dopo nel 45 46 47 quando c'è l'espulsione degli italiani dall'Istria nascono le foibe e probabilmente queste ragazze vivono già loro sulla loro pelle il fatto di essere italiani in qualche modo di seconda categoria nel senso che la loro lingua il loro linguaggio croato e sloveno infastidiva tantissimo il fascismo che proibì l'espressione in lingua slovena o croata nelle scuole dell'Istria in modo particolare o del fiumano comunque è un capitolo lasciamolo perdere perché entriamo in una zona come dire minata che non è meglio non affrontare stasera io ti volevo chiedere invece a proposito di quanto affermava Oriana nella sua introduzione di approfondire meglio la questione del rapporto fra io prima ho parlato di tedeschi che puniscono gli italiani che hanno tradito ma in realtà c'erano anche italiani che si accanivano contro gli italiani in quel momento quindi come si comporta complessivamente il regime di Salò io penso in particolare a Buffarini Guidi che era il ministro dell'interno sotto Salò come si comporta nei confronti proprio della deportazione degli ebrei in modo particolare ma in generale nei confronti del rapporto a quel punto assolutamente servile dell'Italia di Salò verso il Reich allora innanzitutto Mussolini era informato della Shoah fin dal 1942 ci sono le prove e i documenti in particolare insomma Michele Sarfatti grande storico della Shoah li ha anche pubblicati di recente quindi per esempio Mussolini è colpevole di negare l'autorizzazione a migliaia di ebrei in fuga dalla Croazia che tentano di riparare in Italia quando è chiaro che gli ebrei in Croazia nell'odierna Croazia vengono deportati ad Auschwitz per essere assassinati e di suo pugno lui scrive sul documento della polizia che chiede autorizzazione al confine appunto di farli entrare scrivere spinto ma Mussolini come sappiamo oggi è colpevole di tutta la politica discriminatoria che mette in atto dal 1938 al 1943 quando priva gli ebrei italiani integrati da secoli nella nazione italiana nella cultura italiana dei loro diritti fondamentali e li li lascia poveri li lascia soli e li rende oggetto di questo sguardo di disprezzo che ne fa un bersaglio molto facile la tua domanda però è appunto dal 1943 quando diciamo il periodo in cui il libro inizia appunto ad approfondire la storia quindi dalla Repubblica di Salò e quindi siamo appunto dopo l'8 settembre nell'autunno 1943 beh da subito le autorità repubblichine fasciste collaborano attivamente allora intanto già dal 1940 lo Stato il regime fascista aveva ordinato l'internamento degli ebrei degli antifascisti l'hai ricordato tu ma non tutti gli ebrei presenti sul territorio italiano vengono internati anzi una piccola parte ma non per questo è meno grave ricordarlo diciamo che si crea anche da subito e questo l'ha studiato molto bene anche Liliana Picciotto anche un rapporto un po' di concorrenza tra le autorità repubblichine le autorità naziste allora vorrei essere molto chiara su questo la responsabilità della Shoah pesa sulla Germania nazista è la Germania nazista che decide la deportazione degli ebrei per essere assassinati e questo ci mettiamo un punto non meno grave però è la responsabilità dell'Italia che collabora con tre modalità allora intanto sono i prefetti e i questori che appunto dal novembre 1943 anche quando viene deciso di creare il grande campo di concentramento di fossoli come campo nazionale di raccolta degli ebrei ma poi ce ne sono molti altri sono i perfetti questori che ordinano gli arresti ma sono anche le autorità italiane che hanno le liste degli ebrei perché il censimento degli ebrei è stato fatto negli anni precedenti ricordiamoci che quando i nazisti arrivano in un paese dell'Europa occupata intanto non parlano la lingua del posto ce n'è uno su cento che parla la lingua del paese occupato quindi ha comunque bisogno di una collaborazione fattiva ma nel caso dell'Italia trova già delle liste pronte dei censimenti se no come si fa a sapere gli ebrei italiani sono pochi proporzionalmente alle altre comunità dell'Europa del momento perché sono circa 40.000 45.000 poi su numeri possiamo discutere sono sparpagliati per un territorio lungo che appunto è la conformazione della penisola quindi non sono tutti concentrati come in Polonia che nella sola Varsavia ne vivevano alla vigilia dell'occupazione 350.000 ma ce ne sono non so 10.000 a Roma e qualche migliaio sparsi quindi sapere i nomi e cognomi delle famiglie dove abitano è determinante del resto come fanno a catturare 1022 ebrei in poche ore nella retata del 16 ottobre 43 a Roma lo fanno perché hanno appunto si fanno dare gli elenchi collaborano però anche in un'altra in un'altra maniera allora intanto perché quando ci sono alcuni casi in cui l'identità della della vittima che è sempre decisa dal persecutore cioè chi è ebreo fondamentalmente chi è registrato nella comunità ebraica chi pratica la religione ebraica chi ha due genitori ebrei chi si considera ebreo chi decide se uno è ebreo o no magari una persona ha due genitori ebrei completamente ateo distaccato dall'ebraismo ma secondo la logica persecutoria resta un ebreo quindi anche in quei margini di scelta che può fare chi arresta lì si è visto che per esempio la maggioranza degli organi di polizia fascista propendono per lo zelo propendono per applicare appunto in maniera puntuale l'ordine di arresto e poi credo che tu Antonio volessi arrivare qui c'è tutto il campo della delazione c'è tutto il campo delle bande assoldate alla caccia degli ebrei qui c'è una ricerca importante di Amedeosti Guerazzi che è appena uscita ma c'è anche molto da scoprire cioè chi sono stati i persecutori italiani vogliamo nomi e cognomi e anche le vogliamo sapere chi sono stati non solo come lista nominativa ma vogliamo sapere anche in quale categoria hanno collaborato perché vi faccio un esempio lo diceva Liliana Picciotto i portinai dei palazzi che conoscevano tutti gli abitanti di quel palazzo pensate il ruolo che potevano avere in un periodo in cui c'era paura c'era oppressione c'era occupazione cioè se denunciavano proteggevano quali sono stati i margini abbiamo il macro livello della polizia ma poi abbiamo tutto il campo dell'amministrazione e visto che accennando alle donne che sono non ebree che sono state deportate appunto principalmente salvo le operaie che partono da Bergo ma tutte le altre partono da Trieste e da Gorizia e sono catturate nelle province dell'Italia nord orientale fiume Trieste Pola che fa parte appunto del litorale adriatico lì in particolare proprio perché quello è un territorio di confine un territorio dove la resistenza è molto precoce già dal 41 c'è la resistenza jugoslava che quindi coinvolge anche grandi numeri della popolazione locale che è stufa di fascismo perché è stata discriminata dal fascismo perché lì ci sono comunità importanti slovene e croate che del fascismo hanno vissuto tutto il male possibile che quindi alimentano questo sentimento di opposizione che dopo l'occupazione diventa proprio resistenza e lì ci sono delle bande come la banda Collotti che sono proprio pagate per dare la caccia non solo agli ebrei ma anche a tutti quelli che sono sospettati di resistenza perché perdonatemi se insisto su questo punto ma credo che sia anche veramente il lavoro che ho cercato di fare da Trieste partono treni che hanno i vagoni divisi in due parti una parte ci sono gli ebrei e una parte ci sono i non ebrei quindi c'è una politica persecutoria delle autorità naziste su quel territorio lì che possiamo dire Trieste ma poi arriva fino a Fiume Pol eccetera e la provincia di Lubiana dove c'è una violenza efferata che si estende non solo perché la Shoah deve essere completata quindi gli ebrei italiani devono essere inseriti nel programma di genocidio ma perché lì agli occhi dell'occupante nazista chiunque è un oppositore chiunque è un sospettato di resistenza allora per esempio le donne le donne che vengono catturate non tutte erano collegate direttamente alla resistenza ma tutte aveva quasi tutte avevano un marito un fidanzato un fratello un cognato un parente un amico che era invece coinvolto nella resistenza quindi quando avvenivano questi rastrellamenti a tappeto cioè non andavano per il sottile chi c'era c'era e quindi anche queste donne vengono appunto arrestate e mandate ad Auschwitz poi per le ragioni a cui accennavo prima poi nel mezzo però ci sono le staffette partigiane come Ondina Petteani come tante ragazze di 16 anni che fanno le staffette partigiane che vengono spesso arrestate su dell'azione dei fascisti quindi sono i vicini di casa che li denunciano che li denunciano ma per esempio la banda Collotti per citarne una commette delle veramente delle azioni di violenza molto cruenti ci sono donne che vengono violentate che vengono ripetutamente torturate nelle carceri prima ancora di essere deportate c'è una donna per esempio Aurelia Gregori che è l'unica italiana di cui abbiamo notizia che partorisce pensate ad Auschwitz gli ultimi giorni prima della liberazione è di origine slovena lei la gravidanza è frutto probabilmente di uno stupro cioè sicuramente di violenza da come ha testimoniato lei ma probabilmente di una violenza subita proprio dopo l'arresto quindi una complicità che va assolutamente sottolineata poi però nel mezzo finiscono anche persone delle quali non sappiamo la ragione per la quale sono deportate ragazze che vanno a commerciare il sale il sale serviva per la macellazione della carne era molto prezioso eccetera che mentre si spostano dalla propria casa in campagna vanno verso Trieste dove c'era anche il mercato nero dove cercavano appunto di vendere qualcosa o di acquistare qualcosa per la propria famiglia che cadono i rastrellamenti i rastrellamenti a tappeto per esempio in Istria ci sono azioni ripetutamente sui civili villaggi incendiati donne violentate e i civili arrestati per il lavoro forzato quindi uomini che vanno da Trieste verso Mauthausen o Dachau e queste mille donne che vanno invece verso Auschwitz quindi credo di avere risposto sottolineando appunto una parte italiana non indifferente fra dieci minuti dobbiamo abbandonare la sala mi pare allora vorrei Laura che rispondessimo in particolare rispondessimo tu a quella provocazione fatta a te secondo me in particolare anche se non direttamente sulla recludescenza del fascismo oggi dal razzismo in modo particolare il sindaco che non è più presente in sala mi pare ha fatto delle affermazioni abbastanza pesanti cioè si avvertiva la delusione il disincanto di una persona che si ritrova purtroppo a rivivere un clima un attesamento di rifiuto del diverso di eliminazione del diverso che pensavamo di aver eliminato allora tu che per tantissimi anni e ancora hai costruito in qualche modo e hai diretto il programma di educazione alla memoria del comune di Rimini ritieni che l'intervento che abbiamo fatto anche assieme che tu continui a proporre in Italia e fuori per l'educazione delle giovani generazioni nella scuola in modo particolare sia veramente inutile o comunque non sia in grado di rispondere in maniera efficace alla rinascita di questi rigurgiti di razzismo e di fascismo ovviamente non lo ritengo inutile anche se ogni tanto sono sconfortata anch'io ma insomma mi confronto con i miei amici colleghi che sono qui presenti tu stesso Patrizia Daniela la Francesca insomma Maria Rosara tutti quelli che collaborano all'attività educazione alla memoria che certamente non realizzo da sola beh intanto l'attività educazione alla memoria che l'abbiamo chiamata così dopo anni di iniziativa legata solo al viaggio si fonda su due principi fondamentali che questa amministrazione ha sempre voluto difendere e spero che continuerà insomma sempre a tenere ben saldi lo studio della storia della deportazione della Shoah perché questo è il nucleo da cui noi partiamo ma una sollecitazione una riflessione sulla libertà individuale sulla responsabilità individuale noi è questo che cerchiamo di fare con i giovani di promuovere un approfondimento della storia molto rigoroso quindi non semplificatorio non è che parliamo di tutte le tragedie umane perché poi si fa un gran minestrone e non si capisce più niente quindi noi siamo molto rigorosi sulla storia però affrontata sempre attraverso la lettura della condizione umana oggi cioè io oggi che voglio conoscere quella storia che cosa porto di me e che cosa vedo nel mio presente ma non perché io sono l'ebreo e qui credo che stia anche la provocazione di alcune manifestazioni di alcune veramente anche insomma volgari attacchi alla mia e nostra amica Liliana Segra e molti altri cioè non è che noi siamo gli ebrei di ieri o non è che la domanda è tu che cosa faresti se ti trovassi non so io ogni tanto sento qualche esercizio didattico assurdo ma tu che cosa avresti fatto ma tu non è che devi farti quella domanda di cosa avresti fatto non è che noi siamo in un ghetto non è che noi siamo a Auschwitz o io posso sapere se allora sarei stata una collaborazionista oppure un'eroina questa è una domanda sbagliata noi dobbiamo partire dall'oggi e leggere quella storia chiedendoci io oggi quanto mi sento responsabile del male altrui Liliana Segre continua a dire questa frase l'indifferenza quindi la colpa dell'indifferenza ecco chiudo quindi questo volevo dire cioè io che tipo di persona voglio diventare nella mia nella mia realtà il fatto di essere un cittadino una cittadina attivamente partecipe e non posso sempre continuare a voltare la testa di fronte al male altrui perché non è questione di avere capito di non avere capito è questione di se vogliamo essere persone essere umani o se vogliamo così continuamente essere passivi di fronte a tutto credo che noi con l'attività educazione alla memoria come molte altre attività che altre associazioni e istituzioni fanno credo che sia importante credo che sia importante continuare anche lo voglio dire perché ci sono anche gli amministratori presenti dobbiamo riprendere appena sarà possibile l'iniziativa del viaggio studio ai luoghi della memoria perché io ho sempre sostenuto che che vedere che vedere dal vivo come si dice di persona un campo di concentramento un centro di sterminio non lo ritengo obbligatorio nella vita come dice qualcuno non è più importante di leggere un libro di storia non fraintendiamo le cose ma credo che sia fondamentale però anche vedere i luoghi perché quando tu li vedi la prima cosa che io faccio notare ai ragazzi quando li porto a Mauthausen dovunque andiamo è quanto sono distanti le case dei civili che spiego che si trovavano lì anche nel 40 42 45 insomma il periodo che affrontiamo cioè nel senso non andiamo su Marte non è che andiamo in un museo virtuale andiamo in luoghi che erano luoghi abitati dove il male era una dimensione quotidiana sotto gli occhi di tutti sotto gli occhi di tutti questo ecco insomma credo che dobbiamo continuare a fare scusate se l'abbiamo fatta un po' lunga voglio veramente ancora ringraziare scusate se lo ripeto ma sono anche veramente molto emozionata oggi voglio ringraziare la mia famiglia i miei amici tutte le persone che mi hanno sostenuto è stato veramente un progetto impegnativo questo molte volte ho pensato di non realizzarlo tu lo sai Antonio però vi voglio dire questo ma non per così per scatenare un applauso no io mi sognavo i nomi di queste donne anche la notte mi scrivevo sui bigliettini i nomi di queste persone le attaccavo veramente in casa e dicevo no devo trovare Elda devo trovare Sonia devo trovare Anna devo capire chi sono e sono riuscita a rintracciare questa è l'ultima cosa che voglio dire una delle donne italiane che sono state arrestate mentre erano incinte si chiamava Elda Berghignan perché la famiglia mi ha autorizzato ovviamente a raccontare la storia poi ci vuole delicatezza quando si raccontano anche gli orrori subiti dalle persone questa ragazza per esempio è una ragazza che viene rastrellata mentre sta andando a commerciare prodotti agricoli col suo fratellino quindi in cappa nella banda collotti viene presa su è portata da Auschwitz lei a 24 anni è sposata è incinta dal suo primo figlio all'inizio della gravidanza arriva da Auschwitz riesce appunto a nascondere la gravidanza fino a quando viene trasferita in un altro campo a Flossenburg lì si accorgono che è incinta e lei e altre tre italiane ugualmente incinte quindi alla fine della gravidanza vengono trasferite con un trasporto che si chiama donne incinte quindi anche la burocrazia del carnefice agghiacciante non sono solo gli orrori anche proprio il linguaggio il linguaggio che usa la burocrazia per parlare delle persone trasporto di donne incinte sono otto quattro italiane quattro non italiane che da Flossenburg perché non sono ebree fossero state ebree ci sarebbe stato probabilmente neanche bisogno del trasporto vengono mandate a Ravensbruck il campo delle donne perché sono alla fine della gravidanza lo voglio dire anche se è difficile io ho trovato il registro dei parti del campo di Ravensbruck e ho cercato ossessivamente il nome di queste donne e ho trovato annotato il giorno l'orario e i minuti in cui queste donne hanno partorito il loro bimbo o la loro bimba è stato segnato il nome del neonato il nome dell'ostetrica che le ha fatte partorire ed è stato segnato il giorno l'orario e l'ora in cui questi neonati sono morti perché poi sono stati lasciati senza cure e quando io ho rintracciato la famiglia perché poi questa signora Elda Berghignan sopravvive torna a casa si ricongiunge al marito e ha tre figlie e quando ho contattato le figlie e la mamma era già morta che mi hanno mandato dell'altra documentazione eccetera lei non aveva mai raccontato questa cosa quindi pensate anche il dolore delle persone che nell'avere subito la deportazione e l'agrausciz hanno subito anche questo e tutte queste donne che non hanno mai parlato quindi credo che lo dobbiamo anche a loro ricordarle veramente grazie grazie a Laura per il pomeriggio interessantissimo e grazie a tutti voi per l'attenzione buona serata grazie a tutti grazie a tutti